ciao a tutti bentornati sul canale traduzione canzone musica spiegata e bentornati a coloro che guardano il video questo canale per la prima volta oggi purtroppo dobbiamo parlare di un cantautore italiano che è scomparso il 22 agosto è un cantautore che rispecchia proprio l'italianità a tutto l'ondo e questo cantatore è toto curugno che è stato amato molto all'essero tanto che le sue canzoni furono tradotte molte lingue e d'altro canto però non ebbe questo successo anche in italia perché a causa del suo carattere che lui comunque era consapevole di avere un carattere molto molto cupo un carattere molto chiuso un carattere cupo che comunque non mandava a dire che per questo non ebbe molte simpatie da parte dei giornalisti e d'altro canto però ebbe molto dal dal pubblico che lo amava molto perché comunque era un cantante un cantatore che faceva delle canzoni che piacevano molto al proprio pubblico italiano alle persone e le persone semplici perché lui comunque si riteneva una persona semplice perché si ferma da solo nasce in una famiglia normale in una famiglia non ricca e che riesce ad apprezzare per cui quindi riesce ad apprezzare il il suo apprezzare e valorizzare il suo talento tanto che appunto è riuscito anche non solo a scrivere canzoni per se stesso ma anche a scrivere canzoni per altri grandi artisti come per esempio adriano centano e qui mi allaccio alla alla canzone che andiamo a trattare perché comunque la canzone eh diciamo simbolo della sua della sua decennale carriera e questa canzone appunto l'italiano l'italiano era una canzone eh che lui scrisse scrisse mh scrisse per adriano centano ma lui la rifiutò perché disse che non non doveva dire di essere italiano lui eh non se la sentiva una canzone sua perché già sapeva di essere un italiano vero e quindi non la voleva cantare ma lui appunto in un pervista disse che questa questa fu una canzata mondiale tanto che poi loro divennerò amici e lui è appunto scrisse altre canzoni per lui e per molti altri molti altri cantanti detto questo dobbiamo dire che tanto cotogno comunque fa parte proprio della storia nazionale delle canzoni italiane perché è uno è uno dei cantanti che è uno dei cantanti che che ha più più presenti più presenze nei festival di Sanremo ehm mi sembra come Anna Oxa come Fausto Leali come Gigliola Cinguetti se non sbaglio e che quindi possiamo dire che come mh feste di Sanremo lo possiamo paragonare a nazionale di calcio e che quindi lui eh ha più presenze di tutti quanti e eh ma il fatto è che lui ehm non so se molti lo conoscono perché comunque le persone della mia età comunque più giovani ehm non hanno del tutto forse ben chiaro di questo di chi stiamo parlando perché Toto Cotogno praticamente eh è stato uno dei tre mh cantautori che ha partecipato alle versi di seremo e a vincere e addirittura a vincere il 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 contest Eurovision e qui se possiamo usare un'altra metafora il contest Eurovision lo possiamo non so paragonare alla alla Champions League di calcio e quindi eh o al pallone d'oro no? E quindi lui insieme appunto a Gigliola Cinguetti e Imaneskin sono gli unici tre ad aver vinto questo premio internazionale e quindi questo avvalora la sua carriera perché comunque sono stati soltanto in tre cantanti a vincerlo e quindi diciamo che veramente stiamo parlando di un totem di un totem della canzone italiana proprio come abbiamo detto lui ha partecipato in molti festival di sanremo arrivando per se volverse ben sei volte secondo appunto una volta primo nel 1980 e altre volte si classificò non molto bene e anche in altre volte arrivò in classifica con cantanti che cantavano le canzoni scritte da lui quindi veramente parliamo di un fuori classe un fuori classe della canzone italiana come abbiamo detto lui vinse il festival di sanremo nel 1980 con 1980 e appunto vinse il contest l'anno dopo e tra gli altri ricordiamo due secondi posti in cui lui criticò molto la stampa tanto che fu addirittura in silenzio stampa a quel tempo fece scalpore nel 1989 mi sembra dove vinsero Annox e Fausto Leali e l'anno dopo anche che arrivò per la seconda volta di fila secondo quando vinsero i fuori con uomini soli veramente quindi quindi diciamo che possiamo soltanto che omaggiare questo questo grandissimo cantautore veramente fenomenale però che non è stato molto amato della critica appunto lo possiamo paragonare abbiamo detto a un calciatore che ha più presenze mondiali e ha vinto un pallone d'oro perché diciamo che il contest lo possiamo paragonare al pallone d'oro quindi fatta questa premessa importantissima che diciamo ci dà l'idea di quanto sia gran Toto Cotugno andiamo a parlare della canzone che lo rappresenta di più che appunto è l'italiano l'italiano che uscì appunto il 4 febbraio del 83 all'altro festival di Sanremo a cui partecipò ma che non diciamo arrivò a quinto in questo festival neanche secondo arrivò a quinto questa canzone fu tradotta in molte lingue e la composizione risale al novembre 1981 e come abbiamo detto inizialmente questa canzone fu pensata per Adriano Celentano che non la volle cantare perché diceva che non gli apparteneva questo appunto l'italiano è proprio un inno agli italiani che vivono all'estero diciamo più o meno come la canzone Italia di Minoretano che tutti conosciamo che purtroppo purtroppo queste poi canzoni questi cantanti sono vengono portati in alto quando muoiono in vita come per esempio Celentano era trattato non era ben visto non so perché non aveva una grande stampa e lo stesso Docutugno quindi questi diciamo che questi due cantanti li possiamo annoverare tra le bandiere degli italiani all'estero quindi come abbiamo detto Celentano disse che fece una cazzata mondiale a non a non cantare questa canzone la troppa scrupolosità si può trasformare in una cazzata mondiale però nonostante tu l'abbia cantata come l'avrei cantata io oggi se la dovessi ricantare la canterei esattamente come l'hai cantata tu questo è un diciamo un saluto che ha fatto Celentano a Totocutugno sul suo canale Instagram ufficiale la canzone alla fine viene presentata al festival di Seremo arrivando quinta ma il pubblico si innamorò di questo testo tanto che vendette 100 milioni di copie e tutto questo grazie a rifiuto di Adriano quindi diciamo che da una parte tanto che Celentano il successo ce l'ha avuto diciamo che è stata una concessione all'opera quindi è come se lui la possiamo vedere come come una canzone che voleva lasciarla a a colui che la scrisse e quindi dare risalto dare risalto giusto risalto all'autore la canzone prima parla di vizi virtù esterotipi del bel paese a cui vengono imputati ad esempio un eccessivo americanismo si dice con troppa con troppa America sui manifesti e forse anche una crescente crisi di vocazione religiosa oppure una una certa disinvoltura tra parentesi a livello sessuale queste potrebbero essere le interpretazioni della frase con più donne sempre meno suore ma pur sempre un paese al quale sei fieri di appartenere tanto da poter esprimere in canzone tale orgoglio patriottico nel testo vi sono riferimenti alla religione cristiana oltre a parlare di donne sempre meno suore vi è una sorta di invocazione a Dio e alla passione degli italiani per il calcio sport in cui l'estate precedente la nazionale italiana vinse il mondiale di Spagna si parla della moglie della domenica e di una bandiera da portare in tintoria viene inoltre citato il presidente della repubblica Sandro Pertini in carica dal 1978 al 1985 è il partigiano come presidente nel testo si allude anche alla Fiat 600 che era un'icona del benessere appunto di quegli anni detto ciò possiamo andare ad analizzare il testo che è molto semplice perché comunque si canta con una chitarra questa è proprio la classica schitarrata di non so del falò o comunque di una persona che si trova all'estero e che canta da do cunugno perché è conosciuto infatti come come non si può non si possono ricordare questi versi lasciatemi cantare con la chitarra in mano lasciatemi cantare sono un italiano proprio viene viene da sola cioè le parole vengono da sole non si possono scordare buongiorno Italia gli spaghetti al dente quindi perché comunque l'Italia è la patria degli spaghetti al dente perché diciamo che la ricetta perfetta degli spaghetti la vuole al dente è un partigiano come presidente come abbiamo detto il partigiano è Sandro Bertini c'è riferimento al presidente con l'autoradio sempre nella mano destra un canarino sopra la finestra perché comunque l'autoradio come abbiamo detto era il simbolo del benessere del comunque dello sviluppo tecnologico che c'era in quei tempi comunque l'autoradio per ascoltare musica in macchina è un canarino che tutti avevano nella finestra del balcone buongiorno Italia con i tuoi artisti con Troppa America sui manifesti e questo abbiamo detto che c'è una una piccola critica nei confronti di troppa americanità con le canzoni con amore con il cuore con più donne sempre meno suore e questa appunto è la crisi di vocazione che abbiamo detto perché dice che ci sono sempre meno suore buongiorno Italia buongiorno Maria Maria perché comunque è il nome più conosciuto cioè più comune in Italia come Francesco con gli occhi pieni di malinconia buongiorno Dio lo sai che ci sono anch'io e quindi è una preghiera a Dio di ricordarsi anche di lui lasciatemi cantare con la chitarra in mano lasciatemi cantare una canzone piano piano lasciatemi cantare perché ne sono fiero sono un italiano un italiano vero poi continua buongiorno Italia che non si spaventa con la crema da barba alla menta e comunque appunto sì con le persone che si fanno la barba con con questo con questo con questa crema che evidentemente andava di moda a quel tempo alla menta con un vestito gestato sul blu e la moviola la domenica in tv quindi il vestito gestato evidentemente era simbolo dell'eleganza e la moviola la domenica in tv perché comunque in quel tempo il calcio era molto importante perché abbiamo ripetuto l'Italia vinse in mondiale nell'82 questa canzone appunto abbiamo detto è dell'83 quindi quel periodo il calcio era molto molto in voga molto importante per cui c'è un riferimento sia alla moviola che la domenica in tv buongiorno Italia col caffè ristretto il caffè ristretto è proprio un altro simbolo dell'italianità che va all'estero chi viene chi viene in Italia si beve il caffè ristretto le calze nuove nel primo cassetto quindi con i calzini cioè con diciamo i vestiti ben rimessi i calzini appunto messi bene nei calzetti con la bandiera in tintoria con la bandiera dell'Italia che viene portata in tintoria per ripulire e una 600 giù di carrozzeria appunto la 600 che era diciamo una delle macchine più importanti e che a quel tempo appunto la Fiat aveva nella sua nella sua gamma e quindi questa la canzone è molto semplice è molto scorrevole si canta con la chitarra quindi è veramente facile e niente questa praticamente è una canzone simbolo dell'italianità una canzone scritta da Toto Cotugno che ci ha lasciato poco tempo fa e quindi è giusto fare un ricordo per questa persona che ci ha reso importanti all'estero una persona che ha fatto della musica la sua vita e della vita la sua musica per questo per questo quindi lo ringraziamo e mandiamo una preghiera per noi per noi che comunque amiamo la musica le canzoni anche italiane anche se questo è un canale di canzoni anche estere di canzoni che parlano di altre lingue ma interessandoci anche delle delle canzoni italiane dei significati di queste canzoni che raccontano la nostra vita passata il nostro il nostro il nostro percorso e i percorsi dei nostri genitori che hanno vissuto questi tempi veramente impetibili dal punto di vista socio-economico politico e Toto Cotugno ne è l'interprete più uno degli interpreti più importanti sul palcoscenico italiano quindi invito ad ascoltare questo questo inno italiano con attenzione riflettere sulle parole e riflettere sul sulla musica e su questo personaggio che ci ha lasciati quindi con quindi mi invito a mettere un mi piace se vi è piaciuto il video e di iscrivervi al canale traduzione di canzoni in musica spiegata per continuare insieme questo percorso per noi che amiamo la musica in generale sia italiana che di altri gli altri gli altri stati continenti di altre lingue quindi con l'italiano di Toto Cotugno per il momento è tutto alla prossima ciao ciao Grazie a tutti.